Veniamo da un periodo molto duro, dopo una sconfitta e un pareggio e dobbiamo porre fine a questo periodo con una vittoria oggi su un campo molto ostico come quella dell'Atenax qui a Castelfidardo e cercheremo di dare tutto per ottenere i due punti. Ora sto molto meglio, sono stato seguito dalla società e appoggiato da tutti i compagni per tornare più presto e spero di poter tornare presto a utilizzare la squadra.